A quanto pare per Sony lanciare un obiettivo al mese non era abbastanza. Ne ha lanciati appena tre e li ho potuti provare in anteprima, quindi mettiamoci comodi e parliamone. Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Sì, avete letto bene dal titolo, Sony ha appena lanciato tre nuovi obiettivi. Dopo il 51.2, uscito la settimana scorsa, che proveremo, promesso non vi preoccupate, ci troviamo di fronte a altre tre lenti Prime Full Frame Autofocus dedicate fondamentalmente alla serie A7C. Mettiamoci comodi perché questa non sarà effettivamente una recensione, perché abbiamo avuto una settimana di tempo per provarle qui in studio, fra mille altre cose, ma devo dirvi che ci sono un paio di cose da dire molto interessanti su una serie tutta nuova, da parte di Sony, che indubbiamente è pensata per l'A7C, ma forse è pensata anche per chi ancora è sulla PSC e sta pensando al full frame, ma vuole comunque qualcosa di compatto senza spendere troppo. Ma parleremo anche di prezzo verso la fine. Mettiamoci comodi. Ma parliamo delle focali. Innanzitutto abbiamo il 24mm f2.8, il 40mm f2.5 e il 50mm f2.5. Quindi sono tre lenti completamente ovviamente autofocus, prime e soprattutto molto compatte. Come vedete abbiamo davvero di fronte una lente quasi pancake, se così la possiamo definire. Ma la particolarità di queste lenti è che è vero, sono molto compatte, è vero, sono molto piccole. Tuttavia Sony ha inserito tutte le caratteristiche che più amiamo della serie G e oltre. Diciamo prendendo un po' spunto da quello che è stato il 20mm f1.8, del quale trovate la recensione qua sul canale, inserendo non solo il tasto settabile, come vogliamo, classico delle lenti Sony, ma bensì lo switch per la messa a fuoco automatica e manuale e allo stesso tempo il diaframma fluido. Sono lenti fondamentalmente pensate non solo per chi fa il fotografo, ma anche per chi fa il videomaker. La funzione diaframma fluido è una funzione dedicata proprio specificatamente ai videomaker ed è che queste lenti si vogliono piazzare. Sono pensate secondo me per i content creator, che vogliono lenti luminose a basso budget, ma con una qualità di un certo tipo, perché comunque ci troviamo di fronte alla serie G di Sony, ecco, non l'ultima arrivata sul mercato, né comunque la serie più economica, come, se ben ricordate, il 50mm f1.8 di Sony full frame, che non era una lente incredibile. Ecco, proprio di compattezza parliamo e proprio di content creator, secondo me, andiamo a discutere, perché queste lenti sono oggettivamente pensate per la 7C, macchina con il quale le ho provate, eccola qui, la mia 7C fiera, che tra l'altro è anche la camera che utilizzo per le mie live su Twitch, se ancora non mi seguite, martedì e giovedì 21.15, come sempre non mancate. Ma sì, sono lenti che stanno bene su questo corpo, sono leggere, compatte, ma allo stesso tempo ci garantiscono prestazioni ottime e il diaframma fluido, ragazzi, che per chi come me fa fotografo e videomaker può essere davvero una bella chicca. Ma c'è un ma, mettiamoci comodi, perché dopo averle provate ho un paio di cose da dire. Quindi togliamo il design, che l'avete visto, l'abbiamo capito, e parliamo dell'aspetto pratico. Ah, piccola chicca prima di passare alla parte pratica, sul design questo paraluce, per quanto riguarda il 40 e il 50, veramente è inguardabile. Non capisco come mai il 24 ha un sistema di paraluce completamente diverso, questa roba qui a beccuccio non la si può vedere, però accantoniamola e usiamola senza paraluce, per favore. Ok, scherzi a parte sul design, passiamo all'aspetto pratico. Come è stato utilizzare queste lenti? Sapete che io sono un amante delle prime, in questo momento sto registrando con un 35 1.8 Sony, ho un 85, ho il 24 G Master, ho il 35 1.4 che sta arrivando, e ovviamente non vi nascondo che il sogno di possedere quel 51.2 è parecchio alto. Qui siamo di fronte a delle lenti, a mio avviso, che hanno due scopi. Il primo è indubbiamente quello da parte di Sony di andare a contrastare quella che è la concorrenza. È vero, Sigma, Samyang e Tamron hanno prodotto lenti 2.8 e anche più aperte per i sistemi Sony, ma si sente parecchio che Sony vuole comunque avere il controllo della qualità dell'immagine e vuole dire che la sua serie G è decisamente migliore. Io già più volte vi ho citato la serie Samyang super compatta, ho il 24, il 35 e anche il 45 del quale trovate anche un video dedicato qui sul canale. Tuttavia, benché il prezzo di queste lenti qua sia intorno ai 200-300 euro massimo, devo dire che la qualità è ben lontana sia per il focus lineare, sia per quanto riguarda proprio l'aspetto qualitativo della costruzione e del risultato dell'immagine, che è poi la cosa più importante. E senza divagare, è proprio il risultato dell'immagine che voglio parlarvi in questo video, perché l'esperienza è stata ottima. Devo dire che tutto sommato abbiamo davvero delle immagini molto nitide, gerato in 4K, ovviamente si vede tutto molto molto bene. Ci sono un po' di criticità, a mio avviso, per quanto riguarda soprattutto la gestione del flare. Col 50 mm è parecchio eccessiva la parte di ghosting che si crea e la luce in lente non viene tagliata benissimo. Segno del fatto che comunque non siamo di fronte a una G Master, non abbiamo tutto il trattamento di nano coating, eccetera, che permette di tagliare i flare e i disturbi in lente. Ma, se posso dire la mia, e so che qui forse sarà un po' eretico come discorso, per il pubblico al quale è rivolta questa quantità di flare può essere interessante. Certo, preferisco non averlo, però c'è, ce lo accogliamo, e secondo me per molti può essere bello avere questo flare parecchio vistoso, parecchio colorato. Certo è, nulla toglie, che comunque, per quanto mi riguarda, è un difetto. Parlando dell'aspetto della leggerezza nell'uso pratico di tutti i giorni, la combo A7C è una di queste tre lenti... è... troppo leggera, secondo me. Le lenti sono costruite molto bene, devo dirvelo, però è tutto troppo leggero. È vero, A7C, sensore stabilizzato, lavora molto molto bene, le lenti hanno comunque un ottimo autofocus, insomma, nel complesso si usano molto bene. Ma il sistema è decisamente troppo leggero. Non si ha né abbastanza peso sulla lente, né abbastanza peso sulla macchina per facilitarci nelle riprese a mano libera, che sapete essere un po' il mio must. C'è però da dire una cosa, una chicca non poco rilevante. Con queste lenti Prime possiamo pensare davvero di fare un setup iperleggero, magari mettendoci insieme un Crane M2, che è uno dei gimbal più potenti e leggeri al momento sul mercato, montandoci sopra un A7C e, appunto, una di queste lenti Prime, abbiamo un setup effettivamente stabilizzato su gimbal full frame, che non è assolutamente niente male. Per quanto riguarda, come vi dicevo, l'autofocus, siamo a degli ottimi livelli. Quello che ha patito un po' di più è stato il 50 mm, metri che in situazioni di forte controluce con i soggetti all'ombra faceva un po' di fatica ad agganciare il soggetto. Questo però sulla A7C, che non ha ovviamente tutta la potenza di calcolo e di messa a fuoco che ha invece la A7S3 che sto utilizzando in questo momento e che ho anche utilizzato nelle immagini che state vedendo per filmare proprio con queste lenti. C'è da fare però un punto, perché sì è vero, sono qualitativamente molto buone, a me sono sinceramente piaciute, e per chi sta cercando un kit di 3 prime full frame autofocus con diaframma fluido, quindi pensate, per fotografi e videomaker con tutti i tasti Sony, con la pura compatibilità Sony ovviamente, eccetera, 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 siamo di fronte alla migliore soluzione che possono acquistare. Tuttavia il mercato è ampio, e sapete che a me piace osservarlo tutto. Abbiamo le Samyang, che avete già visto costano decisamente molto di meno, e abbiamo anche le nuove Sigma, la serie DCGN, o come diavolo l'hanno chiamata, che effettivamente è un po' il contrasto a questa serie qua. Qual è il problema principale di queste lenti qua? A mio avviso. A mio avviso è il prezzo di lancio. Partono da 700 euro. È vero, è un listino, ed è un prezzo circa provvisorio, non lo so definito, perché purtroppo non abbiamo ancora una comunicazione ufficiale da Sony nel momento in cui sto registrando, ma comunque per quanto possano scendere, 500 euro a lente costeranno. È vero, siamo di fronte a una serie G, e comunque c'è il marchio Sony sopra, che fa alzare il prezzo decisamente di più, e su questo non ci piove. Abbiamo la serie Samyang, che è indubbiamente la più cheap di tutte, se volete spendere 200 euro per una lente, quella è l'unica che potete andare a toccare. I Tamron non si sono superaffermati per quanto riguarda la parte prime, e insomma, e i Sigma, sono i Sigma e vanno alla grande, benché abbia visto un video comunque sul 65 mm, che a livello di distorsione non scherza. Così come non scherza qui il 24 mm, che è vero, che con le correzioni in macchina è praticamente inesistente ogni tipo di distorsione, ma comunque c'è, e insomma, per chi scatta effettivamente in full frame e poi aprirà RAW senza le modifiche della camera, vedrà un certo tipo di distorsione. I risultati sono ottimi per una lente così compatta. Ragazzi, è un 2.8 24 mm, che è grande tre dita. Si può fare tutto, ma non l'impossibile. In ogni caso appunto, il discorso del prezzo mi disturba un pochino. Non troppo, perché sono abituato che le lenti Sony costano di più, ma comunque hanno determinati risultati, molto buoni, e queste sono molto più buone delle Samyang, assolutamente, senza ombra di dubbio. Tuttavia sì, effettivamente 700 euro per ogni singola lente portano l'ammontare di 2100 euro per tre lenti prime, molto compatte, che sinceramente un pochino mi pesa. Forse perché, sommando la qualità del 35, 1.8 che ho io, dell'85 che utilizzo molto spesso, è di un ipotetico 50 mm f1.8 decente, a differenza di quello che c'è ora, si sarebbe raggiunti probabilmente lo stesso prezzo con tre lenti prime che in mano hanno un peso decisamente diverso, benché la costruzione del 35-85 non è che proprio mi faccio impazzire, infatti il mio 35 è praticamente distrutto. Ma, benvenute, direi che è sempre un bene avere scelta per quanto mi riguarda è un bene, e benché questo forse non è un video completo nel quale vi abbiamo analizzato ogni singola virgola, avete visto più che altro parecchie immagini dei risultati che le lenti hanno portato a casa, e secondo me è quello che poi deve effettivamente parlare, sono contento comunque che Sony stia continuando a offrire possibilità. Chi ha una 7C indubbiamente in queste lenti potrebbe trovare una soluzione prime per fare un po' di tutto, le vedo molto bene in viaggio quando al posto di portarci un solo obiettivo ce ne possiamo portare tre. Per quanto riguarda invece la scelta delle focali non sono molto convinto del 40 mm, è vero, prima non esisteva e l'unico che si avvicina un po' è il 45 Samyang 1.8 che vi ho già recensito tempo fa. A me il 40 non fa impazzire, ve l'avevo già parlato in un vecchissimo video di confronto fra 35 e 40 e 50 se volete andarlo a vedere lo ritrovate qui sopra ma avrei preferito forse avere una focale più grandangolare ancora dato che la 7C secondo me scarseggia su una lente compatta super grandangolare. Abbiamo il 18 Samyang 2.8 sarebbe stato bello vedere un 16 o anche qui un 18 Sony G2.8 che avrebbe aggiunto qualcosa in più su una focale che non è così tanto trattata da parte di Sony per quanto riguarda l'aspetto fisso. È vero, un po' di rumor danno un 16 mm G Master in arrivo in futuro però avrei preferito un 18 decisamente decisamente di più di un 40 che è molto vicino al 50 e tanto vicino al 35 che già c'è ed è perfetto. In ogni caso ragazzi in descrizione come sempre trovate un po' di file di foto fatte con loro quindi potete andare a vedere effettivamente come i distorcono eccetera giudicate voi non mi interessa dare il mio giudizio definitivo sono lenti super interessanti io sinceramente ora come ora su un A7S III che è la mia main camera non monterò lenti di questo tipo preferisco investire su G Master preferisco investire comunque su lenti differenti e soprattutto più aperte 2.8 è una buona apertura 2.5 pure ma non è per me quell'apertura che sto cercando per il determinato sfocato che voglio oltre al fatto che montare dei filtri ND da 82 su una roba da 49 è un po' ingestibile io ho solo filtri da 82 e quindi preferisco avere lenti decisamente più grandi più importanti specie perché nella mia mano sono tanto piccole queste tutto qui in ogni caso vi lascio in descrizione oltre ai file anche l'informazione ad Amazon e allo store dove troverete i pezzi definitivi di lancio e soprattutto potrete seguire sul canale delle offerte Telegram che se ancora non seguite lo trovate anche qui in descrizione l'andamento di prezzo perché appena scenderanno ve lo segnalerò senza ombra di dubbio l'arrivo è previsto per la fine di aprile secondo me perché arriveranno più o meno a metà aprile ma fra preordini arrivano i negozi secondo me per la fine di aprile le vedremo appunto pronte magari per goderci un po' di primavera inoltrata e di estate che speriamo ci possa portare un pochino a viaggiare di più e anche con loro magari detto questo ragazzi il video finisce qui vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto lasciate un like per sostenere il video vi ricordo che potete supportare il canale anche con tp trovate tutte quante le informazioni in descrizione infine Instagram Twitch e Telegram sono i tre social in cui sono più attivo durante la settimana se ancora non mi seguite fatelo perché ogni social ha il suo tipo di linguaggio il suo modo di comunicare con voi detto questo io ho finito queste tre lenti sono effettivamente molto interessanti e noi ci vediamo in un prossimo video e noi ci vediamo